Io interpreto Lola d'America che è una croce rossina americana che invasata dell'idea di aiutare diciamo quella che lei ritiene essere la parte buona della guerra parte per la Francia incontrerà il nostro Ferdinand Bardamou col quale ha una storia diciamo d'amore un po' forse azzardato direi una storia di passione tra due persone molto diverse perché è descritta come un idealista ma allo stesso tempo anche una sensuale cioè c'è questo miscuglio di cose che attraggono secondo me ma anche irritano Ferdinand Bardamou. Poi nel secondo atto interpreto Madelon questo è il costume di Madelon e invece è una ragazza del popolo che Leon l'amico di Ferdinand Bardamou quello che lo accompagna per tutto il romanzo incontra quando viene mandato a Tolosa per cambiare vita e gli viene affidato questo affare della grotta delle mummie. C'è sempre sia in lui che in Ferdinand questa incapacità di stare soprattutto di stare nella coppia borghese che la società ha deciso avere certi canoni e quindi a un certo punto c'è questa insofferenza questa voglia di uscire dalla situazione con Madelon e lei non reagirà molto bene e vedremo come. Secondo me il punto di vista femminile è un punto di vista esplorato dal punto di vista di un maschio quindi c'è sempre questo da considerare però è molto interessante ed è molto secondo me significativo dell'epoca, racconta molto dei costumi di quell'epoca, di che cosa si pensava dell'amore che probabilmente non aveva neanche troppo a che fare con l'istituzione del matrimonio. Lavorare in gruppo è sempre un'occasione di ricevere tantissime energie e quindi è anche sempre impegnativo. Le prove hanno avuto a che fare anche con questo secondo me, cioè con far incontrare tutti questi percorsi diversi però credo che il lavoro di Claudio sia anche e soprattutto sull'essere umano e quindi contempla la diversità degli attori e questo aiuta a metterci tutti insieme. E' vero che spari bene, eh Ferdinand! Spari bene tu Ferdinand! È vero! È vero che spari bene Ferdinand!